e chi sei e chi sei dei dagli bene sotto lì e chi sei la pianta era sulla mia direzione e chi sei il pelo lì e chi sei e chi sei così è più bella spampi di là più bella spampi di là dove vai marco così devi imparare a fare a tenere la moto meno male che c'è la pianta lì è stacca è lo stacca bottone hai visto? la moto si è spenta ha girato penso diverso minchia un litro di benzina consumato quando è arrivato a lungo la gamba per salire ferme di là è lungo sempre la gamba per salire quando arriva la moto gli scappa via dalle mani la stava prendendo Andrea è rimasta accelerata perché il strappo non ce l'ha gli è passato via dalla testa di ok ecco queste qua non si spengono questi non si spengono